La repressione di crimini dal fenomeno della prostituzione che prosegue sulla fascia costera allo spaccio di droga nelle zone a rischio già individuate, passando per l'abusivismo edilizio. Il territorio di Eboli è attenzionato dal gruppo permanente interforze che si è costituito in prefettura Salerno e che stamane ha vissuto di un altro momento di incontro e confronto. Il prefetto Francesco Russo ha ricevuto ed esaminato la dettagliata relazione con l'esame delle criticità inviata dal sindaco ebolitano Mario Conte. Ora la task force è pronta ad azioni da intraprendere che saranno coordinate tra tutte le forze dell'ordine presenti in piazza Mendola con i massimi esponenti, con il questore Maurizio Ficarra che avrà un compito organizzativo e con la partecipazione del comandante provinciale dei Carabinieri Gianluca Trombetti e del comandante provinciale della Guardia di Finanza Oriol De Luca. Presente a Sarenno anche il vice sindaco di Eboli Vincenzo Consalbo, l'assessore alla sicurezza Antonio Corsetto e il comandante della polizia municipale Sigismondo Lettieri. Tra gli argomenti trattati anche una sorta di alleanza con gli imprenditori agricoli della Piana del Sele perché si evitino forme diffuse di lavoro nero e caporalato.